Contento a metà perché vedo che ci sono alcune cose che vanno molto bene, altre cose che ogni tanto non riusciamo ad avere continuità come ad esempio al servizio e sono delle cose su cui stiamo lavorando e che secondo me ci possono veramente dare tantissimo. Quindi contento per la vittoria però non contento diciamo di quello che ancora abbiamo fatto perché ci stiamo lavorando ma ancora vedo che abbiamo tanto su cui lavorare. Devo dire che è stato bello così confrontare un attacco come quello che ho io a muro difesa come quello che ha Casal Maggiore alla fine è uscita una battaglia e penso che l'equilibrio tra noi e loro è molto sottile nel senso che basta pochissimo per ribaltare la partita e loro sono una squadra che ti fa innervosire perché veramente non molla mai una palla, sono state poi ordinatissime a muro dal quarto set in poi sono state molto molto brave e poi noi siamo stati grandi a ritrovare la lucidità in attacco perché quando una squadra ti mura e ti difende così tanto è facile poi perdere così la lucidità nel fare le cose.